Il Pontificio Istituto Missioni Estere a Massa Annunziata ha ospitato stamane la giornata dedicata alla santificazione dei sacerdoti. La Chiesa a livello mondiale dedica questo momento alla preghiera e alla fede dei propri pastori sui territori. A presiedere l'iniziativa al PIME di Massa Annunziata, l'Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. È un'iniziativa che si svolge da un po' di anni, vede coinvolti i sacerdoti anzitutto, ma non soltanto i sacerdoti. Noi sacerdoti ci riuniamo per pregare, per pregare proprio perché è necessario che anzitutto noi teniamo vivo questo contatto con il Signore. Noi possiamo metterci a servizio degli altri, possiamo essere pastori buoni se siamo uniti a Gesù, buon pastore, se operiamo uniti a Lui, se rendiamo presente Lui. Ecco, quindi è anzitutto un momento che noi vogliamo vivere personalmente. Ma la santificazione dei sacerdoti è qualcosa che riguarda tutta la Chiesa, anzi possiamo dire l'intera umanità. Ecco perché deve essere una giornata sempre più conosciuta, sempre più realizzata. Ed è quanto mai significativo che la giornata si svolga in occasione della solennità del cuore di Gesù. proprio perché tutti i fedeli, noi, tutte le persone interessate alla santificazione dei sacerdoti, tutti guardiamo a Lui, al Suo cuore, il cuore che ci ama, il cuore che è il rifugio per tutti noi, il cuore che resta sempre pieno di amore. Anche se noi dovessimo andare lontano, dovessimo tradire l'amore del Signore, Lui ci ama sempre. Allora la solennità del Sacro Cuore è proprio questo momento di grazia che tutti viviamo, rifugiandoci nel cuore di Gesù e pregandolo tutti perché noi sacerdoti possiamo essere pastori secondo il Suo cuore, cioè pieni di amore verso tutti come fa Lui. Vi chiedo quindi di pregare molto per noi sacerdoti, per il Vescovo, per tutta la Chiesa. Quanto più ci mettiamo a servizio dell'amore del Signore, tanto più certamente l'umanità potrà essere nella pace, nella solidarietà, potrà instaurarsi la civiltà dell'amore che è il desiderio profondo che c'è nel cuore di tutti noi.